Signore e signore, invitati alla corte di Re al Principe Raffaele di Ruocco, la storia di un sogno che diventa realtà. Ragazzi facciamo rumore con le mani per Raffaele, tutti! Era un vero principe, con quel mantello, con quella corona, felice, tutti quanti noi l'abbiamo applaudito, ma era stupendo, stupendo. La sale era un diamante.